Come vincere soltanto con una grande partita al limite delle nostre potenzialità, visto anche l'infortunio che aveva patito Ben Barrieri nell'ultimo allenamento e che onestamente ci aveva un po' abbattuto, ma devo dire che l'applicazione e la disponibilità e al sacrificio soprattutto ad adattarsi a tante cose tecnico-tattiche da quella mia squadra è veramente qualcosa che delle volte è sopra ogni immaginazione, ho giocato una partita completa cercando soprattutto di limitare il grandissimo talento di Bologna, cercando di spostarlo su giocatori che magari sono più attuati a prendersi grandi responsabilità, alternando molto difese e dall'altra parte cercare di avere molto il campo per costringere noi a forzare le rotazioni, devo dire che la squadra si è assalificata, tutti, tanti, fuori o fuori dobbiamo voli e c'è molta soddisfazione, però sappiamo che non abbiamo fatto niente, nel senso che siamo molto contenti perché abbiamo passato il tour, noi siamo in semifinale ancora dopo due in serie del mezzo, ovviamente, tremando per noi, però adesso ci aspetta un'altra partita, una tremanda squadra, ma intanto, ripeto, sono veramente, veramente, come posso dire, non dire innamorato perché sarebbe da mio cuore, però veramente io conosco i giocatori e il vedere il sacrificio di uno come Spon che passa da giocare con i metri al titolare, a fare con il quattro titolare senza prendere le bocche, poi si è sposta nel 5, poi torna nel 2 metri, è una squadra che io spero che capitano tante armi così, ma per lo spessore di armi, è un tecnico, è umano, penso sia un'altra partita che è difficile. Com'è?